Sono undici complessivamente le persone denunciate tra Giarre, Riposto, Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano, Santa, Venerina e Milo dai carabinieri della Compagnia di Giarre che ieri pomeriggio hanno compiuto un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio in sinergia con i colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del Battaglione Sicilia. Quattro le denunce per furto aggravato tra Calatabiano, Giarre e Fiumefreddo di Sicilia. Grazie al supporto dei tecnici dell'Enel, i militari dell'arma sono riusciti ad accertare che le abitazioni dei soggetti erano state allacciate abusivamente alla rete elettrica pubblica. A Milo una persona dovrà rispondere invece di omessa custodia di armi. L'uomo non avrebbe custodito l'arma detenuta legalmente secondo le norme di sicurezza previste dalla legge. Altre tre persone sono state denunciate tra Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia e Santa, Venerina per violazione degli obblighi connessi alla custodia dei propri mezzi già sottoposti a sequestro amministrativo. A riposto una persona è stata invece denunciata per guida senza patente poiché già revocata. Infine due persone sono state sorprese in auto con due coltelli a serramanico con una lama di oltre 20 centimetri. Sono stati denunciati per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Quattro i giovani segnalati alla prefettura di Catania come assuntori di sostanza stupefacente. Grazie.